Una depressione in quota, nucleata dal flusso atlantico principale, attualmente centrata sul sud dell'Italia, incede con senso retrogrado verso nord-ovest ed è quindi attesa a transitare nel corso delle prossime ore anche sulle nostre regioni. In Toscana, lunedì 14 novembre, inizialmente nuvoloso con residui precipitazioni, miglioramento già dalla mattina con ampi rasserenamenti, venti deboli da nord-est, temporaneamente da nord-ovest nel pomeriggio lungo la costa, mari poco mossi, temperature in lieve calo le minime, massime stazionali. Sul territorio provinciale da nuvoloso fino a poco nuvoloso, sereno, localmente velato. A Lucche sulla Piana, temperatura minima 7, massima 16 gradi. A Castelnuovo Garfagnane, zone montane, minima 6, massima 15. A Biareggio e sul litorale, minima 9, massima 17 gradi. Martedì, giornata con discreto peggioramento.